Un cordiale saluto. Benvenuti nello spazio meteo con analisi modellistiche europee e previsioni su scala nazionale curato da Meteograd. Bollettino meteo per il giorno venerdì 8 aprile 2022. Situazione ed evoluzione generale su scala euro-mediterranea. Il flusso zonale atlantico imperversa sull'Europa settentrionale e centrale, caratterizzato da una successione di intense depressioni arrecanti precipitazioni diffuse e persistenti. Queste precipitazioni tenderanno a lambire la parte settentrionale della penisola iberica, l'arco alpino e marginalmente il nord Italia. Più a sud la fascia alto-pressoria subtropicale tenderà a distendersi lungo i paralleli andando ad interessare tutto il Mediterraneo, anche se non mancheranno tese correnti occidentali innescate dall'intenso flusso zonale alle più alte latitudini. Queste correnti trasporteranno aria mite e carica di umidità tale da determinare addensamenti sparsi e pioviggini a tratti sul Mediterraneo settentrionale. Dal punto di vista termico avremo temperature rigide sul nord Europa e parte della Gran Bretagna, mentre più a sud prevarrà un contesto decisamente mite. Previsioni meteo in area italiana per il giorno venerdì 8 aprile 2022. Nord. Parzialmente nuvoloso con addensamenti più compatti a ridosso dei rilievi alpini, specie nella seconda parte della giornata, con associati rovesci sparsi, nevosi soltanto in alta quota. Qualche nube a tratti compatta insisterà sulla Liguria di Levante con possibili sporadiche piogge a ridosso dei rilievi grazie a tese e umide correnti di Libeccio. Centro. Cieli poco o al più parzialmente nuvolosi con addensamenti più consistenti sulla Toscana dove non sono da escludersi sporadici e brevi piovaschi sulla parte settentrionale della regione. Ampie schiarite lungo la fascia adriatica grazie a diventi di caduta di Garbino. Sud e isole. Condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le zone salvo dei modesti addensamenti a ridosso dei rilievi e sulla parte settentrionale della Sardegna, comunque sia senza alcun rischio di precipitazioni associate. Temperature massime in aumento, più sensibile nelle pianure del nord e sui settori adriatici, zone nelle quali si supereranno i 20 gradi Celsius. Minime anch'esse in aumento grazie alla presenza di qualche addensamento nuvoloso e di mite ventilazione sud-occidentale. Ventilazione generalmente sud-occidentale, da debole al nord a moderata altrove, con rinforzi al centro-nord, sui settori tirrenici e sui crinali appenninici. Mari da mossi sui settori adriatici, fino a molto mossi altrove. A tratti agitati sui settori liguri e toscani, dove vi saranno delle mareggiate sulle coste esposte. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale per ricevere ogni giorno il bollettino meteo aggiornato. Fai clic anche sulla campanellina per ricevere le notifiche istantanee riguardo nuovi bollettini o contenuti. Grazie 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 a tutti